Renato Zero, Zeroski, solo per amore, un bellissimo evento al cinema, un bellissimo concerto. C'è la stazione come immagine, no? Sul palcoscenico. Perché? Perché la stazione si fanno tanti incontri interessanti, perché è un punto d'arrivo, di partenza. Beh, noi veniamo tutti dalla stazione, mi pare, no? Chi col cesareo, chi invece in forma naturale, da quella stazione siamo venuti fuori tutti. Quindi la simbologia della stazione per me è l'inizio di un viaggio, forse è un modo di incontrare, di fare delle scelte anche molto drastiche delle volte. Perché prendere un treno anziché un altro può in qualche modo determinare il cambiamento, se non parziale, addirittura totale di un'esistenza. Per cui credo che meglio di una stazione ferroviaria, poi ferroviaria e non aeroportuale, perché l'aereo è già sfuggevole, è già una realtà sopraelevata, direi, per usare un eufemismo. Per cui ho preferito proprio il binario, perché il binario tranquillizza e ti porta sempre in uno stato, in una zona terrestre. Quindi si sogna anche nel treno, ma le rotaie servono proprio a mantenere stabile persino un sogno. In una delle canzoni che c'è in Zeroski dice, fragilità chi non ne ha? È lì che imparerai. Allora mi chiedo se lei ha imparato dalle sue fragilità, da quale imprimi? La persona fragile pecca più botte di una, diciamo, consolidata, che ha spalle larghe, no? E quindi l'esposizione di una persona fragile è decisamente maggiore di quella agli opposti. Però devo dire che questa fragilità, una volta che si è misurata con la negatività di certi incontri, di certe esperienze, la fortificazione è garantita. Però è una fortificazione non macio, non da palestra. È una fortificazione proprio dove la nostra indole e il nostro interno godono di una consistenza maggiore e quindi siamo in grado di essere esposti alle intemperie, a qualsiasi forma di aggressione o di aggressività, ma abbiamo guadagnato i nostri anticorpi, quindi siamo più tranquilli. Lei ha avuto tuttora una carriera straordinaria, ha attraversato tante stazioni, ha avuto tanti treni e ha sempre rispettato se stesso, almeno questa è la sensazione che ho percepito io, sia nella scelta estetica dei travestimenti che lei utilizzava per gli spettacoli, sia anche nelle provocazioni magari che faceva. Se Renato Zero nascesse nei tempi d'oggi come artista, come pensa potrebbe comportarsi o avrebbe la stessa forza, lo stesso impatto che ha avuto il Renato Zero all'inizio? Io penso che sia cambiata sostanzialmente proprio la visuale di un certo panorama possibile nell'ambito artistico, perché vediamo un'impostazione molto rapida, molto celere di questi nuovi talenti, ma proprio perché non hanno prima conosciuto l'oscurità di una cantina o di una sala prove non così bene collocata, è proprio per queste ragioni che la loro esposizione è abbastanza precaria, perché non avendo conosciuto la famosa gavetta, tutto sia così difficile e anche poco credibile. Se vediamo uno vestito da Renato Zero oggi, credo che non faccia né caldo né freddo a nessuno, perché grazie a Renato Zero di ieri abbiamo acquisito una certa liberalizzazione, non solo nel costume, ma anche poi nella mentalità, anche poi nella possibilità proprio di manifestarsi liberamente. Quindi io senza quel Renato lì oggi non sarei questo Renato qui. Forse c'è un po' un appiattimento, forse la provocazione non ha più la sua forza di una volta. Noi pensavamo che anche le ragioni della musica, dello spettacolo, della comunicazione sono ragioni assai lontane dalle nostre ragioni, perché noi facevamo questa cosa un po' per ribellione, un po' per cercare di cambiare le cose che non ci piacevano, un po' per dimostrare ai nostri vecchi che eravamo in grado di badare a noi stessi e di sviluppare un percorso che fosse credibile e fortunato. Adesso invece questa esigenza, l'esigenza di oggi è dimostrare agli amichetti che stai in televisione o che sei in rete e che canti, riuscire a convincere la ragazzetta a mettersi con te. Cioè sono motivazioni, secondo me, estremamente leggere rispetto all'impegno che richiede diventare degli artisti con la maiuscola. Le motivazioni, te le ho spiegate prima, sono di natura rivoluzionaria o comunque molto passionale, dove praticamente devi anche mettere te stesso in una condizione di grande sacrificio, anche perché in effetti io i sacrifici li ho fatti. Non posso negare di essere stato in qualche modo in trincea quotidianamente, un po' per portare a casa la pelle, ma un po' anche per dimostrare che avrei avuto talento. Quindi insomma ci vuole il sacrificio a tutti i costi. Grazie. 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 Grazie.